Oh Spinello che fai, perché stai qua, pochia miseria intacco, oh ma stasera faccio con la macchia di club, macchia di club, macchia di club, faccio con il mio papeno, non hai tensione? Dai vai, mi ha visto il colpo, oh e dai, e dai, guarda la cosa è rocca faccio, la cosa è rocca, cioè il brenone è l'ambigliante, guarda, c'è il brenone è l'ambigliante, guarda, c'è il brenone è l'ambigliante. Devo dire che la mia seconda famiglia sono gli amici del bar del Triangolo, il bar che frequento e mi sostengono in questa mia impresa, in maniera particolare uno mi sostiene tantissimo che è Spinello, il tossico del bar, Spinello si fa l'aerosol alla hashish dentro il bar e lui proprio crede in me, crede in me e mi dice sempre che io diventerò un grandissimo attore. Guarda che scordi, lo vedi, lo vedi che scordi, perché io per fare il Marche Comedy Record sono stato illuminato, illuminato come Leopardi che vedeva all'infinito, io uguale, ho visto all'infinito, dico devo fare qualcosa di importante, è importantissimo, ma non guarda troppo, pensa, pensa, pensa. Con questa impresa che sto portando avanti sto riscuotendo tantissimo successo, io so sicuro che mi verranno intitolate delle statue, delle chiese e delle vie, ed è giusto che questa cosa io la condivida con tante altre persone, perché non è che me la posso tenere dentro di me. Guarda che immensità, la vedi che immensità, qui sarà pieno, tutto pieno, pieno, pieno di gente, pieni di parti, parco di metto lì, parco di metto lì, parco di metto lì, ho 12 ore, oh, l'orologio, vedi l'orologio di fondo, posto l'orologio, la faccia mia, ce faccio di metto, deve essere una cosa grande, che la gente si ricordi, dici, oh, mamma mia, pieno, deve essere pieno, profondo, capito? Immagina che tu domani te svegli e la città tua non si chiama più come si chiama la tua città, ma si chiama col nome mio, cioè è importante che tu questa cosa ce la sai prima, non è che da un momento all'altro te capita. Perché alla fine è giusto, perché siccome io do tanto, alla fine me, daranno tanto a me, voglio rimanere comunque umile, come sono sempre stato e non voglio assolutamente vantarmi di questa cosa, con nessuno proprio. Io penso che tutto quello che farò mi porterà a qualcosa di ancora più grande, quindi non lo so, immagino che oggi farò il Marche Comedy Record nelle Marche, ma un domani, guarda, non ti voglio di una cazzata, ma secondo me in New York ci posso arrivare facile proprio. bello odore, oh, bello odore, oh, bello odore, oh, bello odore, oh, bello odore. Ti ho detto, no, che mi vuole dedicare la strada, il teatro dell'Aquila. è stato bellissimo l'incontro con Spinello lui con me è cresciuto tanto però sto ancora male ancora mi gira la testa sinceramente che botta, che bomba, mamma mia grazie a tutti